è discreta per loro, di questo passo dovrebbero salvarsi senza grandi problemi anche se nel calcio non si può mai dire è difficile fare pronostici a questo punto c'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro Gioco che ritrenderà dunque con la rimessa del portiere hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centro campo si avvicina all'area, Ozil, grande chiusura difensiva Trash c'è il lancio sulla fascia, all'ottana di pugno il portiere c'è spazio per andare palla schizza via dopo il contrasto la gioca profonda verso l'attaccante difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare cerca addirittura la porta qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata alto il valore di questo giocatore sappiamo che può e deve fare molto meglio bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio ha riconquistato palla Trash poteva far di meglio su questo colpo di testa forse non se l'aspettavo più semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto capita azione interrotta palla che termina in out dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale interrompono bene l'azione bravo qui il difensore che legge bene questo pallone prova a sorprenderlo palla in out sarà corner cross verso il centro dell'area attenzione occasione hanno trovato il gol del vantaggio vedremo come cambierà il match da vedere se proveranno a spingere per farne un altro se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi un gol facile facile come evidenziato anche dal replay ha calciato a botta sicura da due passi ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 occhio cerca l'area di rigore Armitro ha visto qualcosa che non va e dunque fischia il calcio di punizione interrompe bene l'azione intercettando il lancio perde palla perde palla passaggio intercettato show direttore di gara buon pallone filtrante sventa un'azione davvero pericolosa palla che finisce in out hanno regalato il pallone su questa rimessa show su ma così un'occasione importante per il pareggio una grande opportunità sul piede ma non ha saputo sfruttarla show baragna metri ha perso il pallone riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio c'è una ricerca sistematica dell'offside della tattica del fuorigioco da parte della squadra ospite vogliono allentare la pressione sulla difesa e tenere gli avversari il più possibile lontani dall'area ci sono metri a disposizione occhio alla botta c'entra in pieno il difensore intercetta l'ennesimo tiro avversario Constant Gomez si riprenderà con un falo laterale gialli palla nuovamente in possesso punta l'area puntuale qui il difensore nel recupero contrasto riuscito palla che rotola via cerca il sostegno dei compagni occhio al tiro al pallone del pareggio è arrivato il gol del pareggio una logica conseguenza della quantità della mole di gioco espressa da questa squadra si e non hanno lasciato spazio praticamente agli avversari potrebbero anche mettere nel mirino la vittoria se la meriterebbero per quanto ho fatto vedere oggi c'è spazio per andare palla recuperata azione interrotta ha perso il pallone pallone spazzato via bene dalla difesa Trish occhio al suo movimento Ramos recupera palla intercettando bene il pallone perde la palla dopo l'intervento di un difensore baragna metri verso l'area filotta sulla fascia e ruba palla hanno metri a disposizione drogba baragna metri bene qui il difensore ha chiuso la linea di passaggio ha riconquistato palla si avvicina all'area perde palla occhio alla ripartenza Gomez salgono i difensori per sfruttare questo corner può essere l'occasione giusta per il vantaggio palla messa in mezzo senza problemi qui la difesa e c'è la parata senza difficoltà per il portiere è l'arbitro comincia la seconda frazione di gara possono ripartire dopo il recupero del pallone c'è il fisco dell'arbitro si riparte con un calcio di punizione pubblico di casa non sembra per niente soddisfatto delle perdite di tempo della squadra ospite che vuole guadagnare qualche secondo l'allenatore lo ha fatto gialle parità ancora stanno premendo molto non riescono a concretizzare apre bene di testa ci sono metri a disposizione intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio Gomez Drogba contrasto eccezionale Show Baragna metri ha perso il pallone Gomez back continua a offrire grandi palloni ai compagni arbitro che ferma il gioco arbitro che fischia è fatto Palla che finisce fuori Palla riconquistata dagli avversari rimessa battuta proprio male l'arbitro dunque lascia giocare giusto concesso il vantaggio punta l'area Shelly Palla respinta dal difensore corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore Occhio al corner pallone assolutamente fuori portata questa corner troppo lungo palla in out sarà rimessa laterale Occhio al suo movimento nessun problema qui per il portiere intercettano bene i palloni Contrasto riuscito palla che rotola via Show Trash Show Drogba Occhio cerca l'area di rigore un altro pallone in mezzo il portiere in presa sicura l'appoggio di testa al compagno a metri a disposizione voleva sorprendere la difesa ma qui è finito in offside Allen Mancano ancora 20 minuti al termine della gara Gomez a spazio ed avanti a sé parte il tiro nulla di fatto ma certamente adesso la pressione comincia a essere interessante hanno provato a sfondare per via centrali ma sono stati fermati Ozil recupera palla intercettando bene il pallone l'arbitro non avvisa occhio all'intervento del direttore di gara ancora un quarto da giocare apre il gioco c'è il movimento dei compagni ha spazio per andare nessun problema sul cross pallone spazzato via bene dalla difesa buono il recupero possono ricominciare hanno spazio per andare in contropiede Gelli fischia l'arbitro punizione occhio al tiro non ha trovato la porta per una questione di centimetri decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete maragna metri attenzione pericolo è arrivato il gol del vantaggio proprio nel finale devono mantenere i nervi saldi ancora per poco se vogliono portare a casa questa vittoria ormai il più è fatto aveva tutta la porta spalancata non poteva proprio sbagliare da quella distanza davvero troppo facile punteggio cambiato ora siamo sul risultato di 2 a 1 grande chiusura difensiva riesco a malapena a sentire la mia voce perché il pubblico di casa sa che questa può essere la svolta della gara e la quantità di decibel è cresciuta a dismisura stanno letteralmente trascinando la loro squadra verso il gol cambierebbe il risultato tocco verticale interessante occhio al suo movimento tocco orizzontale senza problemi qui per la difesa c'è la regola del vantaggio dunque si va avanti giusta decisione direttore di gara non interviene qui lascia correre buona l'inquisizione qui non si arrendono vogliono almeno i pari può essere uno degli ultimi assalti del match si gioca ancora calcio di punizione può essere l'ultima opportunità è arrivato il cartellino a munizione che mi sembra sacrosanta si Pierluigi non accenna nemmeno una protesta la traiettoria verso il centro palla buttata via l'ha letta bene il difensore si avvicina all'area punta la porta e c'è il gol palla in rete uno splendido raso terra che finisce in rete nulla da fare per gli avversari hanno segnato il termine di una splendida trama l'ha messa dentro ha sfruttato al meglio l'ottimo cross dalla fascia praticamente un cioccolatino solo da scartare l'attaccante ha trovato la deviazione vincente ha sfruttato al meglio il traversone davvero col contagiri e si Pieri il merito per questa rete va diviso a metà per la vista Grazie a tutti.